ciao a tutti benvenuti o bentornati nel mio canale rsmr in questo nuovo video ti volevo portare il nuovo microfono con la nuova telecamera oggi ne ho incontratura che poi c'è anche qua vedete il mio cagnolino la mia cagnolina allora qua abbiamo aspettate questo qua che è il diciamo pop che vedete che potrò usare per questo microfono e in pratica ora ditemi come si sente meglio la carta della mia cagnolina allora ditemi appunto quali preferite cosa questo è solo un piccolo microfono c'è il mio cane che sta costruendoci a me quindi nelle registrazioni lo vedrete molto oggi registro un miti di sera registro con la nuova webcam e qua davanti qua qui 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 c'è il mio grande computer e qui c'è la mia webcam va bene allora vi volevo fare dei vari trigger per provare il mio microfono nuovo per provare il mio microfono nuovo ok però direi di partire con il primo trigger pre prendere con le fiume queste cuffie appunto ora vi vedrete molto più alta però ok come si fa? sentite? allora ragazzi ditemi nei commenti se mi piace questo microfono questo nuovo fisico microfono faccio sentire un attimo la mia voce in inaudible in soft spoken in whispering queste sono le voci che sentirete con questo microfono ripassiamo whispering soft and spooky soft and spooky soft and spooky soft and spooky e e infine e ultimo e ditemi nei commenti qual è la vostra preferita spero che i video vi sia potuto spero che spero che e e ciao tutti ciao ciao